E il verbo si fece carne e imparò a parlare. Che bello pensare a Maria che teneramente insegna a Gesù bambino a pronunciare le prime parole, a comunicare con gli altri, a scegliere le parole con attenzione. In ogni parola di Gesù risuona l'accento di Maria. Gesù, la parola di Dio, impara a parlare le parole degli uomini. Anche così Dio ci viene incontro. Preghiamo allora Maria perché ci insegni a non usare parole vuote ma piene di Dio. Solo nell'ascolto della parola di Dio possiamo imparare a dire l'amore che è Dio.